Chi di voi opera già con certificati a leva? Qualcuno ma non tantissimi, quindi magari vi comincio a spiegare che cosa sono prima di arrivare a un'operatività più concreta sul Fuzzi. Che cosa sono i certificati a leva? I certificati, cominciamo col dire che si dividono in due grandi famiglie, i certificati di investimento e i certificati a leva. Sono entrambi prodotti quotati, sono quotati sul segmento SEDEX di borsa italiana, hanno un progetto di quotazione che viene approvato dalle varie autorità, la MF francese, Consol in Italia e hanno delle regole di borsa in termini di spread, di regole imposte al market maker. Il market maker dei certificati tendenzialmente è l'emittente, quindi in questo caso BNP Paribas. E, diciamo, come vi dicevo esistono due categorie. I certificati di investimento che se volete si sposano un pochino di più con delle strategie di medio-lungo periodo e i certificati invece a leva che si adattano più a un trading di breve periodo. L'idea di oggi è di concentrarci più sulla parte a leva, anche se se avete domande particolari sui certificati di investimento, ovviamente sono a disposizione. Tra i certificati a leva esistono due grandi categorie, la categoria di certificati a leva fissa e la categoria dei certificati a leva variabile. I più noti del mercato sono i certificati a leva fissa, che se volete sono anche simili, non so se qualcuno di voi li ha utilizzati, rispetto agli ETF a leva fissa. Il concetto è lo stesso. E magari, visto che pochi di voi, diciamo, sono familiari con la leva, torno un pochino indietro e comincio da qua, perché qualcuno ha utilizzato gli ETF a leva fissa, i certificati a leva fissa? No. Sono un po', diciamo, quelli più noti. Fate conto che nel mercato del SEDEX, quasi il 45% delle negoziazioni si concentra su questo tipo di prodotti. Come funzionano? Sono disponibili, diciamo, soprattutto su indici, anche noi ce li abbiamo, soprattutto su FUZI, DAX, Eurostox e Eurostox Banks. Eurostox hanno una leva pari a 5 o 7 ed è una leva fissa giornaliera. Cosa significa? Significa che ogni giorno, alla fine delle giornate di negoziazione, si fa un, si dice in gergo tecnico, un re-strike, quindi una nuova fotografia di dove è arrivato l'indice, a partire dalla quale viene ricalcolata la leva per il giorno successivo. Questo è il meccanismo che, diciamo, è valido per i certificati a leva fissa, ma è esattamente lo stesso meccanismo che voi trovate anche per gli ETF a leva. La differenza rispetto agli ETF a leva è che gli ETF hanno massimo una leva 2, questo proprio per regole USITS. Però il meccanismo è identico. Ecco, hanno però, diciamo, un'avvertenza tutti i certificati o gli ETF a leva fissa, cioè l'effetto dell'interesse composto. Che cos'è? Di cosa si tratta? Si tratta di quel meccanismo per cui la leva, come vi dicevo, è fissa solamente su base giornaliera. Se voi detenete questo tipo di prodotti in portafoglio su più giornate di negoziazione, si verifica proprio questo effetto. Tu hai ancora il puntatore per caso? Ah no, ce l'hai? Vabbè, vabbè, non ti preoccupare. Lo indico da qua, guarda, ecco. Uso questo come puntatore. Questo effetto per cui, diciamo, se su base giornaliera, guardate da qua, l'indice Fuzzimib fa più 1,5%, effettivamente il nostro leva fissa 7 fa il suo mestiere e quindi, alla fine della prima giornata di negoziazione, i miei 100 euro investiti sono diventati 110,50. E questo, diciamo, se voi leggete i dati in orizzontale, rimane vero su ogni giornata. Tuttavia, se voi detenete il certificato leva fissa su più giornate di negoziazione, nell'esempio sono 5 giorni, voi vedete che la leva ovviamente non è fedele, perché questo è per un semplice effetto matematico, per cui se io oggi ho 100 euro, il mercato fa meno 20%, diventano 80, domani fa di nuovo più 20%, mi ritrovo a 94, non torno a 100. Ecco, moltiplicate questo effetto per la leva 7 e su più giornate di negoziazione, questo, diciamo, in qualche modo fa sì che la leva non sia affatto fissa. E anzi, tanto più il mercato è volato e tanto più è erratico come andamento, e tanto più questo effetto vi fa male. Quindi, se volete utilizzare ETF o certificati a leva fissa, va benissimo, il mio suggerimento è, diciamo, di non tenerli in portafoglio su più giornate di negoziazione. Se lo volete fare, potete utilizzare invece i certificati a leva variabile, che sono più adatti allo scopo. Faccio una premessa che non ho fatto, che però, diciamo, è a cappello di tutto il mondo dei certificati a leva. I certificati a leva sono nati proprio come alternativa a, magari, derivati più classici, quindi rispetto, magari, ai future, non hanno necessità, naturalmente, di deposito di margine, o cose di questo tipo. Rispetto a opzioni, cover warrant, non hanno, diciamo, l'aspetto della volatilità, quindi, diciamo, sono molto più semplici anche da maneggiare. E l'altro aspetto fondamentale, vengono emessi per ammontari molto piccoli. Adesso ve li faccio vedere anche per i turbo, i mini-fuge, quindi per i certificati a leva variabili, vengono emessi anche per pochi centesimi di euro, proprio per dare la possibilità di esporsi in leva solo per una piccola parte del portafoglio. Quindi, fatta questa premessa, vi dicevo, torniamo al compounding effect, cos'è che può evitarci il compounding effect? Andare sui certificati a leva variabile. Esistono due categorie di certificati a leva variabile, i turbo e i mini-fuge. I turbo, diciamo, sono certificati che sono molto, molto comuni all'estero. Voi sapete che il mondo dei certificati a leva o di investimento è relativamente giovane in Italia. Altri mercati, invece, sono più sviluppati e più maturi. In particolare, ad esempio, il mercato tedesco. Nel mercato tedesco, la situazione è completamente invertita rispetto al mercato italiano. Cioè, il mondo dei certificati a leva fissa è piccolino, invece tutto il mondo dei prodotti che loro chiamano di knock-out fa la parte da leone per quanto riguarda le negoziazioni in borsa. I turbo, direi che sono il prodotto più diffuso in assoluto, sia in Germania che in Francia. Perché? Perché, diciamo, sono estremamente semplici anche da maneggiare. Come funzionano? Allora, innanzitutto, diciamo, hanno un livello di strike, quindi il livello a cui sono stati emessi, quindi la fotografia, che è pari rispetto, è uguale rispetto al livello di barriera. Quindi il livello toccato il quale il prodotto sostanzialmente si estingue senza valore. Questo meccanismo perché è necessario? Perché non potendo andare, diciamo, a perdere più del capitale investito, la barriera serve proprio per, come dire, pensatelo come uno stop loss, ecco, come un porre una fine a potenziali perdite. Hanno, vi consentono di andare in leva, con leve anche più elevate rispetto ai leva fissa, perché mentre i leva fissa hanno una leva massima pari a 7, sui turbo avete una gamma molto più ampia, possono essere leve più basse, ma anche leve 10, leve 12, ma anche più alte. Poi, naturalmente, parleremo anche di rischi di arrivare a leve troppo alte. E il livello della leva sostanzialmente dipende da che prodotto scegliete. Cioè, se voi scegliete un turbo che ha, come dire, una barriera molto vicina, adesso lo vediamo anche sul sito, ovviamente vi andrà a esporre un rischio maggiore, quindi una leva maggiore. Come funziona il prezzo di un turbo? Il prezzo di un turbo, naturalmente ne esistono sia di rialzisti che di ribassisti, il prezzo di un turbo è pari al livello attuale del sottostante, quindi prendiamo il Fuzzi, meno il livello della barriera, che corrisponde con lo strike, quindi il livello, come dire, raggiunto al quale c'è uno stop loss, diciamola così, diviso la parità. La parità, ad esempio, per il Fuzzi, beh, per convenzioni di borsa pari a 10.000. Il turbo short, al contrario, è lo strike meno il prezzo del sottostante fratto la parità. Vediamolo, diciamo, con la gamma, diciamo, più completa sul sito. Ok. Allora, il nostro sito si chiama investimentibnpparibas.it e nella sezione certificates a leva voi troverete proprio turbo, mini future, leva fissa. Andando nella sezione turbo, ce la posso fare, eh? È la prima volta che uso questo computer qua. Ecco, ce l'ho fatta fare. Eccola qua. Nella sezione turbo voi potete cercare tutta la gamma di prodotti, in particolare potete scegliere se volete un prodotto ribassista o lungo, potete scegliere se come sottostante volete un'azione o un indice, supponiamo di voler prendere l'indice, e in particolare il Fuzzi Mib, visto che stavamo parlando del Fuzzi. Ecco, voi qua vedete che c'è una bella gamma a disposizione di turbo sul Fuzzi, a seconda che io voglia andare lungo o corto. Supponiamo ad esempio di voler andare corto, ecco, io qua posso scegliere, a seconda delle mie esigenze e delle mie aspettative, se su quale, come dire, livello di barriera posizionarmi. Questi livelli, voi pensate di come livelli di, diciamo, supporti o resistenze, magari seguendo anche le indicazioni che da Milano Finanza, nel senso che questo livello è fisso, quindi, nei leva fissa, vi dicevo, quello che è fisso è la leva, nei certificati a leva variabile, quello che è fisso è sostanzialmente la barriera, il livello di knockout. Quindi, se voi prendete questo come vostro riferimento della resistenza, del supporto, a questo punto potete scegliere il certificato che fa per voi. Ovviamente, voi vedete che a certificati che hanno un livello di knockout molto vicino, corrispondono a dei livelli di leva molto elevati e quindi anche, come dire, dei prezzi molto bassi, perché sono prodotti più rischiosi, mentre a certificati con livelli di knockout più lontano, corrispondono invece delle leve più contenute. Questi, adesso io purtroppo oggi non ve lo riesco a fare vedere perché il mercato è chiuso, ma nei giorni di borsa aperta, adesso vado ad esempio sui long, voi vedreste muoversi questi dati e anche il livello della leva. La leva diventa tanto più elevato quanto il livello dello spot si avvicina, quindi il livello dell'indice in questo caso si avvicina al livello della barriera. Perché dico che, voi mi starete probabilmente pensando ma se ci dici che la leva è variabile allora non è peggio che per i leva fissa? In realtà no, perché i turbo non sono soggetti al compounding effect e ve lo dimostro con un esempio diciamo più matematico. Ok. Quindi torniamo al discorso del compounding effect e eccolo qui. Qui ho ripreso l'esempio che vi ho fatto vedere prima del leva fissa su più giornate di negoziazione, esattamente lo stesso esempio che avete visto prima e ho provato a fare lo stesso esercizio con un turbo a leva 7. Voi vedete che in questo caso la leva invece è stata rappresentata in maniera fedele. quindi effettivamente ho detenuto il mio turbo in portafoglio per 5 giornate di negoziazione e il turbo ha fatto effettivamente quello che mi aspettavo cioè ha moltiplicato per 7 le performance dell'indice. Questo perché accade? Perché nel momento in cui io compro il mio certificato a leva variabile io fisso la leva in quel momento e quindi i turbo e anche i mini future di cui magari parliamo dopo possono essere utilizzati all'interno di un portafoglio anche per strategie di copertura ad esempio perché io sono sicuro che la leva rimarrà fedele e quindi lo posso detenere per più giorni. ovviamente diciamo questi sono prodotti a trading quindi vanno costantemente seguiti da questo punto di vista io vi suggerisco se vi interessa di andare magari a vedere la nostra di inserirli di monitorarli di studiarveli e di inserirli all'interno di una watch list che abbiamo messo a disposizione ad esempio parlavamo di di un turbo sul sul Fuzzimib se ad esempio io voglio monitorare adesso magari poi mi dice esattamente quale ecco anzi ti coinvolgo subito quale tu eri più short giusto se ho capito bene un'ipotetica strategia short lunedì diciamo a 19 7 730 750 quindi sulla base di questa strategia quindi andiamo su con il turbo short è chiaro che dipende molto dall'aggressività del livello di aggressività come va spiegato dipende molto dallo strike quindi fondamentalmente più si allontana vedete come in qualche modo la leva cambia quindi un conto utilizzare una leva che addirittura qua vedete ha una leva del 56 84 un conto una leva diciamo la normale che sta nell'ordine del 5 7% che è fondamentalmente una leva che ci sta a livello operativo a livello intraday e oggettivamente andare su leve troppo elevati potrebbe essere pericoloso in termini di rischio rendimento dell'operatività se uno dovrebbe sempre scegliere i livelli di pericolosità che stanno intorno del 5 7 10% oltre insomma dovete sapere quello che state facendo quindi ad esempio provo a selezionare non so una leva un 23000 ecco un 23000 quindi in questo momento è una leva 587 voi vedete che qua a fianco vedete questa stellina io posso inserire questo prodotto all'interno della mia watchlist la watchlist è totalmente gratuita ve la potete fare anche voi in qualunque momento da qua c'è anche un educational su come farla ma bastano veramente 5 minuti e inserendola all'interno della mia watchlist io posso crearmi in realtà tante watchlist ad esempio posso crearmi una watchlist per i certificati di investimento una per quella leva una per le minusvalenze una per il breve termine eccetera e infinite vedete qua ci sono ad esempio leva turbo supponiamo di volere inserire questo certificato posso comprare indicare quanti pezzi mi compro supponiamo di volermi comprare 100 pezzi a questo prezzo questo prezzo può essere anche modificato clicco su aggiungere a watchlist e reindirizza e mi riporta appunto alla mia watchlist eccolo qua il mio certificato e sostanzialmente questo è un come dire un po' un mini portafoglio dei certificati che posso crearmi che in un'unica schermata posso avere in continuamente sotto sott'occhio con il valore di carico il valore corrente il profitto la perita che eventualmente ho fatto e soprattutto posso crearmi degli avvisi quindi ad esempio visto che questi certificati comunque vanno monitorati posso chiedere di essere avvisata laddove il livello del del certificato si avvicini pericolosamente al livello del knock out cioè della barriera ad esempio avvertimi mandami un alert quando arriva al 5% oppure avvertimi quando il denaro la lettera arriva a certi livelli oppure quando ho fatto un certo guadagno oppure ancora quando il livello di leva arriva oltre certi livelli quindi posso diciamo in qualche modo avere un aiuto più concreto e delle segnalazioni in tempo reale prego commissioni e eventuale l'auto di acquisto sì allora commissioni allora le commissioni dipendono diciamo c'è la commissione di negoziazione che è la commissione che dipende dal suo broker o intermediario la cosa che non ho detto e la ringrazio per la domanda perché mi dà l'opportunità di mostrarvelo è che i certificati possono essere acquistati da qualunque intermediario torno qui sulla schermata dei turbo per farvi vedere che anche da qua potete in maniera semplice andare alla schermata di acquisto con che vi riporta i principali intermediari Finico Post e Wubank noi abbiamo semplicemente messo un link per semplificare la vita ma in realtà è acquistabile con qualunque banca o intermediario basta semplicemente conoscere il codice ISIN quindi questo codice che voi andrete a copiarvi nella vostra mascherina del broker la commissione di negoziazione dipende ovviamente da con quale broker operate da dove guadagna l'emittente se questa è la domanda l'emittente guadagna diciamo da lo spread denaro lettera dei certificati e torniamo a il pricing del certificato vi dicevo il pricing del turbo è pari a ad esempio nel caso dei long al livello dello spot quindi il livello attuale ad esempio dell'indice meno il livello dello strike fratto la parità più c'è un piccolo margine che è legato a eccolo qua è legato a tassi di interesse dividendi attesi e premio per il rischio gap che cos'è il premio per il rischio gap è diciamo il margine che in qualche modo il trading si tiene per coprirsi dal rischio che in apertura il mercato apra molto distante soprattutto laddove come dire il turbo sia molto vicino alla barriera e quindi non riesca a coprire la posizione la prima domanda era invece la seconda domanda era relativa a che ammontare i minimi ci sono e da questo punto di vista sono veramente piccoli nel senso che ad esempio su non so torniamo al fuzzi il fuzzi vi dicevo a una parità per convenzioni di borsa pari a 10.000 punti l'ammontare che si può acquistare è veramente molto basso ad esempio per quello di non so questo vedete i prezzi vanno da per singolo certificato da 11 centesimi fino ad arrivare a 68 centesimi per certificato non so se ha risposto alla sua domanda un certificato vale assolutamente no 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 assolutamente lei ne può comprarsi anche solo diciamo 10 centesimi non so cosa se ne fa ma diciamo tendenzialmente l'idea dei certificati della variabile è proprio quello di dare la possibilità di esporsi anche per piccoli ammontari piccolissimi ammontari del portafoglio i certificati di investimento hanno invece di solito base 100 euro assolutamente io ti lascerei appunto e poi magari eventualmente riprendiamo ma prego si non si sente rispetto al cover warrant ci hai detto che il cover warrant non abbia mercato per avere un buio anche una produzione dove volessi chiudere e non trovo dall'altra parte la possibilità di venderlo in questo caso non è allora diciamo il cover warrant diciamo rispetto ai turbo hanno tutto l'elemento della volatilità che i turbo diciamo non hanno quindi diciamo sono prodotti molto più lineari entrambi hanno lo strike però nei cover warrant lei dovrà essere attento soprattutto al livello della volatilità e diciamo il passaggio del tempo il cosiddetto time decay lei mi chiede ma in questo caso rispetto ai cover warrant sono è più o meno facile vendere se questa è la domanda giusto allora come nei cover warrant diciamo la controparte è comunque il market maker quindi è comunque ben per i bar tendenzialmente però ben per i bar è considerato il market maker più diciamo bravo nel senso che siamo molto consistent proprio a livello anche europeo quindi tendenzialmente lei troverà sempre denaro e lettera nei nostri certificati soprattutto a quella leva dove c'è anche una maggiore proprio attenzione al trading quindi non potremmo farlo se non fossimo sempre presenti quindi c'è sempre la possibilità di chiudere l'operazione assolutamente tra l'altro ecco mi dà anche un'altra occasione di dire che se volete contattarci per dubbi domande anche in futuro questo è il nostro numero verde 892 4043 e rispondiamo noi quindi non è un call center magari a volte pensano che sia un call center da qualche parte no siamo noi quindi diciamo per qualunque segnalazione problema dubbio rimaniamo insomma a disposizione in qualunque momento no 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 non ce l'abbiamo vi segnalo anche prima di ripassare la parola che abbiamo tutta una sezione sulle quotazioni in tempo reale che è qua anche da qua voi potete andare a cercare dato le quotazioni sono veramente indicazioni in tempo reale quindi diciamo a prescindere da tutto potrebbe essere interessante appunto monitorarle e anche da qua potete cercare i certificati a leva quindi vedete che laddove vedete il sottostante con accanto diciamo questa immagine c'è una gamma di certificati a leva e cliccandoci voi arriverete su voi arriverete no no ma sono io che evidentemente non non ho molta arriverete sulla gamma a leva relativa a quel certificato quindi è un altro modo per cercare i nostri certificati qui invece potete inserire del codice Isin quindi ad esempio su Miano Finanza di Oggi c'è tutta una sezione di analisi tecnica non solo su Fuzzi ma anche su Eni e Mediaset e ad esempio hanno indicato alcuni codici Isin di Turbo su questi sottostanti che potrebbero essere interessanti ecco per cercarli basta semplicemente monitorare inserire il codice Isin all'interno di questa mascherina e si arriva alla pagina di dettaglio per vederli ti ripasso la parola e poi eventualmente trovate un commento operativo quindi sostanzialmente un commento sia alla struttura tecnica che ha del sottostante in questo caso Eni sia un commento ai sottostanti che vi proponiamo non so leggete le ultime quattro righe all'interno dell'offerta si segnalano il Turbo Long 1350 che vanta un certo tipo di leva e c'è un commento che in qualche modo vi fa capire sostanzialmente i pregi di questo tipo di operatività segnalo che noi qua ne possiamo scegliere uno di sottostante nel senso che scegliamo Eni in questo uno per settimana in realtà se voi andate avanti di un paio di pagine trovate a pagina 54-55 tutta l'analisi tecnica dei titoli del Fuzzimi 40 quindi magari anziché non so leggo un giudizio estremamente positivo su Moncler piuttosto che su Ricordati su Enel CNH e un giudizio magari negativo su si possono utilizzare le stesse analisi per operare con i sottostanti di BNP perché alla fine è soltanto un'analisi tecnica e in qualche modo uno ok mi sembra che questo sottostante abbia delle buone potenzialità rialzo vado a vedere che tipo di strumento finanziario mi offre BNP avete visto come fare per in qualche modo mettere nella watch list il tipo di leva alla quale vi esponete e così via potrebbe essere una valida alternativa oltre appunto all'analisi che proponiamo settimanalmente la stessa analisi diciamo questa settimanale viene riproposta poi quotidianamente sul sito di Milano Finanza cioè ogni giorno facciamo un po' un focus tecnico su un titolo quindi su un sottostante solitamente sono sempre titoli del Fuzzimi 40 per la quale avete le stesse medesime informazioni quindi lo scenario tecnico di quel titolo i vari livelli grafici volumetrici più importanti sulla quale costruire la vostra operatività e i sottostanti che meglio si adattano a quel tipo di operatività che vi proponiamo quindi se sono convinto non so che il banco BPM continuerà a salire ecco che ok ho l'indicazione ho eventuali livelli di ingresso gli eventuali livelli di target non devo fare altro che in qualche modo contestualizzarli scegliendo i sottostanti che vengono proposti sul sito ora adesso vediamo se riesco da qua a girare sul sito di Milano Finanza posso uscire da qua a girare se riesco ok questo è la mail un po' posso lasciare giù ok trovate se andate nell'home page di Milano Finanza trovate nella sezione di destra quella che viene chiamata trading e investimenti tutta una serie di analisi che vengono pubblicate quotidianamente da noi del gruppo MFIU sono praticamente analisi tecniche che riguardano titoli valute materie prime e così via tra le analisi che facciamo ci sono appunto delle analisi la cui diciamo titolazione è fare trading con la leva dove in qualche modo cliccando sull'analisi si arriva direttamente alla sezione di BMP dove in questo caso essendo venerdì cioè sabato c'è la stessa analisi che trovate sul settimanale da lunedì troverete una invece valida per il martedì quindi per il giorno dopo quindi giorno dopo giorno avete un'analisi un suggerimento operativo e vedete che le stesse indicazioni che avete sul giornale ve le ritrovate qui quindi c'è tutta la adesso ho cliccato vediamo se si apre la stessa analisi che trovate come commento tecnico dovrebbe apparire qua sotto vediamo se ma un problema di ok la stessa analisi è qua qua avete gli stessi strumenti con i codici ISIN sia short sia long e qua sotto poi avete la possibilità sicuramente di scaricare le brochure informative che riguardano i prodotti in più c'è la possibilità di fare direttamente come dicevo delle domande a BMP che possono in qualche modo chiarirvi il funzionamento dei prodotti piuttosto che sullo strumento piuttosto anche magari sulla strategia nel senso che magari avete dei dubbi su quello che abbiamo indicato come possibile il livello di ingresso piuttosto che sul fatto che il titolo salga e invece scende e così via magari potete assolutamente andando su questo link fare una domanda oh sono già automaticamente partito verso BMP arrivo ok qua sotto e trovate anche il numero di telefono per eventualmente contattarlo devo aggiungere qualcosa io magari intanto secondo me tutte queste serie di analisi avevo no qua mi sentite tutta questa serie di analisi secondo me veramente completa il quadro perché ogni giorno avete come dire una segnalazione più diciamo una segnalazione meglio così così ah c'è una domanda di borsa è scaricabile gratuitamente su iOS e Android per chi non ce l'ha e ha i prezzi diciamo in tempo reale sui sottostanti e anche un motore di ricerca sui certificati allora il prezzo della lettera non devono essere uguali cioè devono essere diverse adesso io non so se c'è un problema in questo momento invece sull'apo è perché oggi i mercati sono chiusi e probabilmente diciamo non è per questo probabilmente non devono essere uguali quindi diciamo ecco grazie dell'aiuto della regia mi stanno dicendo che sull'app diciamo non riusciamo a mostrare tutti i decimali spiegavo che alcuni dei certificati turbo sono emessi proprio per ammontare i molto piccoli 11 centesimi sul sito riusciamo a mostrare tutti i decimali invece sull'app proprio per motivi di spazio ne mostriamo solo due per cui non sono mai uguali lettere e denaro non potrebbe essere ma per una questione diciamo di decimali che non si possono mostrare tutti sull'app lei non li vede quindi diciamo effettivamente forse è meglio andare sul sito ecco l'idea dell'app nasce più che altro per dare un supporto sulle quotazioni in tempo reale quando magari uno è in giro e vuole avere un po' un riferimento di dove sta andando il mercato volevo un attimo riprendere il discorso della copertura perché è una domanda che ci arriva spesso magari diciamo non tutti pensano che con questi prodotti è possibile è possibile anche coprirsi ecco qua diciamo questa è proprio una banalità ma è una domanda che ogni tanto ci fanno quindi lo dico come diciamo quanti quanti turbo bisogna acquistare diciamo se io voglio investire non so 10.000 euro ovviamente dovrò dividerli per il prezzo del turbo e mi arriveranno quanti mi verrà fuori il numero di turbo che devo acquistare tenete sempre conto che dovete tenere conto della leva per capire l'esposizione complessiva quindi se io mi compro anche 1000 euro di turbo ma mi compro un turbo con leva 10 mi sto esponendo per 10.000 euro quindi tenete sempre conto quando operate a leva di qual è il livello a cui volete esporre dicevo questi questi turbo possono essere utilizzati anche per strategie di copertura come faccio ad esempio se io ho non so un portafoglio anche non so in fondi sul Fuzzi o una forte esposizione su un singolo titolo e voglio coprirmi in un momento particolare perché c'è il referendum italiano perché c'è la Brexit perché ci sono delle elezioni quindi c'è un momento di forte volatilità ma non voglio smantellare tutto il mio portafoglio però voglio comprarmi un'assicurazione posso investire in un turbo short ad esempio sul Fuzzi come faccio a calcolare quanto quanto e quali devo comprare basterà dividere l'esposizione sul Fuzzi quindi supponiamo di avere non so 20.000 euro in questo esempio sul Fuzzi Mib come faccio a coprire questo portafoglio beh dovrò dividerlo per questo è il livello della leva del turbo quindi sceglierò ovviamente sulla base dello strike qual è diciamo il livello che io penso che il Fuzzi non raggiungerà nemmeno con l'evento Brexit o referendum eccetera scelgo il livello della leva e quindi dividendo il mio portafoglio poniamo di 20.000 euro diviso il livello della leva mi viene fuori il quanto devo investire per comprarmi questa assicurazione passatemi il termine quindi in questo esempio 4.500 euro ovviamente questo è un livello alto perché io ho scelto un livello di leva molto basso è chiaro che potrebbe essere un livello molto più basso se io scelgo un livello di leva molto superiore e quindi da qua poi per arrivare ai quanti turbo ovviamente devo dividere i 4.500 euro diviso il prezzo del turbo quindi 44 centesimi quindi ne devo comprare 10.214 i turbo hanno una scadenza però vicina quindi hanno una scadenza in questo momento vengono investiti ogni 6 mesi i prossimi hanno una scadenza giugno di quest'anno del 2017 qualcuno mi dice sì ma io se voglio fare una strategia di copertura magari la voglio fare con un orizzonte temporale più ampio ecco se volete fare questo guardate i mini future i mini future sono i cugini dei turbo noi li trovate diciamo sul sito nella sezione vicina hanno un funzionamento estremamente simile torno sul sito per farvi vedere velocemente hanno un funzionamento estremamente simile l'unica differenza è che a differenza dei turbo non hanno una scadenza 6 mesi ma hanno invece una scadenza di 3 anni quindi vi danno la possibilità di coprirvi sui orizzonti temporali più ampi hanno anche leve più eccoli qua certificati a leva mini future hanno anche ce la posso fare no grazie ecco hanno anche hanno leve più basse perché hanno leve più basse perché hanno un livello lo vedete il livello di strike in questo caso è diverso rispetto al livello barriera quindi c'è un piccolo cuscinetto tra il livello di strike e la barriera che fa sì che in qualche modo il livello di leva non possa andare oltre certo livello quindi sui mini future non troverete delle leve elevatissime troverete massimo una leva 10 leva 12 ecco questo è il massimo che potete trovare però è molto utile a questo scopo a scopo di copertura il livello l'altra differenza dei mini future rispetto ai turbo è legata ad esempio ve lo faccio vedere diciamo sull'indice è legata al pricing anche qua il livello del prezzo di mini future è estremamente trasparente quindi ad esempio selezionando non so il mini long sul fuzzi con livello di strike 17.376 quindi una leva intorno a 9 voi potete proprio vedere adesso il mercato purtroppo è chiuso però voi potete proprio vedere come a borsa aperta il certificato si muove esattamente in linea con il sottostante voi vedete qui trovate la quotazione sottostante c'è anche l'indicazione appunto real time questi sono il denaro lettera del mini future perché in questo momento sono diciamo costa 21 centesimi e 60 in lettera beh dovete semplicemente prendere il livello dello spot quindi 19.658 meno il livello dello strike 17.536 e dividerlo per la parità 10.000 punti e arrivate appunto a questo prezzo mi direte ma allora in questo caso dove guadagna l'emittente dove è il margine è qui se voi cliccate sul livello di strike potete vedere che qua c'è fidatevi c'è diciamo il livello del finanziamento quindi se avete un computer più amichevole di questo potete vedere che qui potete proprio diciamo si apre sostanzialmente una tendina dove vi fa vedere che il livello dello strike e della barriera cambiano giornalmente di quanto del costo del finanziamento quindi è un piccolo ammontare chi viene detratto giornalmente quindi il prezzo del certificato è il valore teorico quindi è esatto ogni giorno viene sottratto un piccolo costo del finanziamento quant'è questo costo del finanziamento per i mini future ad esempio su Fuzzimib è pari all'eoriboro un mese quindi negativo più il 3% annuale quindi significa che se voi detenete il mini future per una settimana vi verrà come dire detratto quella a montare vi dicevo perché vi mostro anche i mini future che sono molto simili ai turbo perché parlavamo della copertura e quindi vi voglio mostrare questo tool chi appunto volesse effettuare una copertura su un orizzonte temporale diciamo più lungo rispetto a giugno che è un tool automatico ed è a mio parere molto utile qui ad esempio voi potete fare il ragionamento di prima cioè ho un portafoglio ad esempio di titoli di azioni sul Fuzzi piuttosto che su altri indici pari a non so 10.000 euro o 100.000 euro voglio proteggermelo per la settimana delle elezioni o punto o quello sul CAC ad esempio per elezioni francesi prossime a venire che cosa posso fare? posso scegliermi un mini short qui ho tutta la gamma dei mini disponibili con i vari livelli di strike mi scelgo un livello di strike che a mio a mio parere difficilmente verrà avvicinato e ad esempio non so adesso seleziono questo con una leva non so 7 ad esempio selezionandolo il calcolatore in automatico mi fa vedere ecco il mio portafoglio iniziale di 100.000 euro mi sono comprato una protezione per 14.000 euro ditemi voi dove arriva il prezzo del Fuzzi 20.000 20.000 in quanti giorni? 15 giorni ok quindi in questo caso io ho perso sulla mia protezione ma ho guadagnato sul mio portafoglio quindi sono rimasto come dire a pari se al contrario invece la mia aspettativa si è avverata e l'indice è sceso ditemi voi a quanto arriva 18.6 per il primo in quanti giorni? 15 in questo caso eccolo qua il mio valore della copertura è aumentato quindi il mio diciamo la mia assicurazione chiamiamola così effettivamente ha funzionato perché il mio turbo short si è apprezzato al contrario i miei valori del mio fondo è sceso e quindi comunque diciamo la strategia ha funzionato per proteggermi in quel periodo se non ci sono domande domande dubbi comunque sono qua a disposizione anche dopo insomma domande